è tutto in ferie agosto se uno resta chiuso dentro se non era il figlio, non lo ho pagato e lei è un po' solo cosa fa comunque le persone mi hanno appena scritto nel gruppo che stanno tagliando gli alberi all'altezza del testo il testo? il testo? il testo? il testo? è il testo? si e